Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, questa sera ho il piacere di ospitare il presidente del GAL numero 2, gruppo azione locale, Prealpi e Dolomiti Bellunesi che saluto ed è Alberto Petterle. Anche per voi è stato un periodo un po' complicato perché il distanziamento in un'attività che invece richiede un continuo contatto con gli utenti decisamente ha reso tutto molto più complicato. Assolutamente sì, perché in questo periodo ovviamente noi che lavoriamo moltissimo con i nostri bandi e quindi diamo finanziamenti per realizzare opere molti hanno chiesto che cosa dovevano fare in questo periodo, hanno chiesto proroghe, hanno chiesto anche se valeva la pena o se non valeva la pena perché molti degli investimenti che noi abbiamo avviato erano in settori quali quello turistico che ha avuto molte sofferenze. C'è stato un modo che avete trovato per comunque rimanere in contatto perché evidentemente l'attività, quella consueta, se non si è fermata completamente è certamente molto rallentata. Certo, noi abbiamo pensato in questi mesi come potevamo essere un po' più vicini al territorio anche per far riprendere un po' di fiducia, per cercare di andare a stimolare un po' la rete e a continuare insomma ad essere presenti e abbiamo attivato un canale Instagram e su questo canale Instagram abbiamo pubblicato delle storie di resilienza, delle storie di resistenza al virus o di adattamento anche al virus e abbiamo coinvolto sia imprese sia enti pubblici sia i semplici cittadini e ne è uscito un bel quadro insomma di un territorio che comunque non si è arreso ed ha adottato delle soluzioni talvolta molto semplici ma anche geniali. Siete preoccupati per le aziende che hanno ricevuto i finanziamenti che adesso magari si trovano in difficoltà a rispettare i tempi? Siamo preoccupati perché in un momento iniziale tante di queste aziende hanno detto ma mi comino andare avanti, vado avanti, mi metto a fare questo investimento. Le aziende che invece avevano già iniziato a fare l'investimento giustamente hanno subito un rallentamento ma quelle siamo riusciti a portarle avanti insomma. Le altre secondo me vale la pena perché adesso che siamo un po' più tranquilli ci siamo resi conto che il turismo di montagna, il nostro turismo ha ancora qualcosa da dire, può dire ancora molto specialmente in una situazione come questa. C'è tanta voglia di grandi spazi, aria fresca, di stare in mezzo alle montagne, di avere un po' più libertà e c'è tanta voglia anche di spazi incontaminati. Senta, siccome si parla sempre di rendicontazione che è il momento nel quale uno deve dire io questi soldi li ho spesi in questo modo, deve dimostrarlo, ci sono le fatture, in tutti i settori si è pensato ad una proroga dei tempi, immagino che entrerà anche nel vostro meccanismo. Assolutamente sì, già prima del Covid si paventava un'idea di prolungare di un anno il nostro programma e tutto quanto il PSR a livello regionale sicuramente ci sarà una proroga e sicuramente quelli che hanno iniziato, quelli che hanno preso i finanziamenti avranno tutto il tempo che gli è necessario per poterli portare a termine, insomma quindi sicuramente ci sarà tempo. Dobbiamo aspettare che escano praticamente delle linee tecniche su questa cosa. Il tempo si dice corre veloce e nel vostro caso è emblematico il fatto che si parla di una programma che dura sette anni e quando si è cominciato a parlare di questo programma si è già poi nel momento in cui si parla della fine, perché infatti il programma precedente andava dal 2014 al 2020. Assolutamente. Ma ci siamo, come sempre però è da ricordare c'è poi una proroga, si va oltre il 2020, diciamo che il 2020 è l'anno in cui si possono fare gli investimenti, giusto? Il 2020 è l'anno diciamo che il 14-2020 è l'anno in cui si compie da un punto di vista concettuale questa programmazione europea. Dopo evidentemente per completare questi interventi viene dato un tempo tecnico che di solito è di due anni, quindi la programmazione da un punto di vista concettuale finisce nel 2014 e finisce nel 2020, ma da un punto di vista pratico operativo dopo porta avanti i suoi riflessi nei due anni successivi. intanto però nell'anno 2020 si inizia a preparare la prossima programmazione 2021-2026. Che partirà nel 2023-2024. Che partirà operativa nell'anno 2023, ma già adesso siamo nel vivo della prossima programmazione da un punto di vista di cercare di capire che cosa bisogna fare per sfruttare al meglio tutte quelle occasioni che ci sono. Voi avete avuto svariate segnalazioni di buon lavoro fatto negli anni precedenti, nelle stagioni precedenti ad aver investito tutti i soldi. Avete mantenuto questo trend? Al momento sì, perché abbiamo concesso dei 7 milioni e 6 che c'erano stati dati, ne abbiamo concessi 7 milioni e 4 adesso. Ne avevamo concessi un po' di più, ma poi ci sono verificate delle piccole economie che però sommate hanno dato un avanzo allo stato attuale di 200 mila euro circa, dai 200 ai 250 mila euro. Ora dobbiamo andare a capire in questi 3 mesi, 4 mesi, che cosa possiamo fare con questi soldi. Perché abbiamo tempo per spenderli fino al 31-12-2021, per il discorso che facevo prima. Quindi abbiamo un anno di tempo per pubblicare un bando e capire come andare a spenderli. Qualche idea noi l'abbiamo già. Quando un GAL, un gruppo di azione locale, lavora bene, viene premiato perché i GAL che non lavorano, che non spendono tutti i soldi, devono chiaramente restituirli. Avete avuto delle aggiunte? Abbiamo avuto un'aggiunta l'anno scorso, nel 2019, di 110 mila euro. Poca roba, però è comunque una testimonianza del fatto che il GAL fino a quel momento aveva lavorato bene. E sono sicuro che andremo a completamento dei nostri 7 milioni e mezzo, perché pensi che di questi 7 milioni e mezzo, allo stato attuale, circa 4,1 milioni sono già arrivati nelle tasche e nelle casse di quelli che hanno fatto i vari investimenti. Sì, c'è da ricordare che quando uno partecipa a questo tipo di bando può avere delle anticipazioni, dando naturalmente delle garanzie. E voi l'avete sempre fatto questo? No, l'abbiamo sempre fatto. Tanti hanno chiesto questi piccoli anticipi, tanti invece hanno chiesto a conti, quindi hanno fatto una parte del lavoro, poi hanno chiesto l'acconto e poi hanno fatto l'altra parte del lavoro. E tanti invece hanno chiesto a saldo, perché avevano disponibilità. Insomma, il panorama è piuttosto variegato e diversificato. Quando si parla del GAL, quando si parla del PAL, del piano di azione locale, si parla di azioni. Anche Facciamolo Noi 2020 è un'azione specifica, oppure è un modo di intendere? Il Facciamolo Noi è il titolo. All'interno di questo titolo ci sono tutta una serie di azioni e di intendimenti. Qualche esempio. Allora, il nostro PSL era su due assi. Il piano di sviluppo locale. Esatto, il piano di sviluppo locale, chiedo scusa. Il piano di sviluppo locale era su due assi. Uno il settore agricolo e l'innovazione in campo agricolo, e l'altro invece è il turismo sostenibile. In quest'ultimo ambito abbiamo finanziato parecchi B&B, alberghi, bar, ristoranti, e tutte quelle attività e tutti quei servizi complementari all'offerta turistica. In ambito agricolo invece abbiamo fatto un'operazione interessante, abbiamo finanziato quattro progettualità di innovazione in campo agricolo, che è una cosa nuova, è una novità di questa programmazione, che è una cosa finita e che sicuramente ci sarà anche nel periodo 21-27. Non c'è niente nella testa delle persone più radicato della consuetudine, dell'antichità dei modi nel settore agricolo. In parlare di innovazione, cos'è? Nei macchinari? No, non è macchinari, per esempio, le faccio un esempio, i coi greggi delle pecore sono stati tutti mappati e tracciati tramite dei microchip per capire come si spostano, per capire quale alimentazione seguono, per capire come migliorare da un punto di vista genetico queste specie per far sì che la pecora di Lamont, oppure quella nostra, dell'alpago, possono essere migliori da un punto di vista sia della loro produzione di latte, sia carne, che anche per la lana. Voi lavorate in modo particolare per sostenere quelle aziende che lavorano nel campo turistico, ma una volta che uno ha realizzato una struttura deve poi farla conoscere da solo, magari fa un po' fatica. Avete dei programmi, magari in collaborazione con la DMO, l'ufficio turistico provinciale, chiamiamolo così, è più semplice. È molto più semplice, è una collaborazione per fare in modo che questi soldi possano essere valorizzati. La DMO, l'ufficio turistico, è un interlocutore per noi fondamentale, nel senso che lui è quello che detta la linea in ambito turistico. Noi forniamo il nostro supporto e quindi tutte le azioni di promozione in ambito turistico sono state realizzate in stretta collaborazione assieme a questo ufficio turistico. Voi avete notato che ci sia una certa, uso un termine che è brutto, ma a me piace, cronicizzazione del concetto di GAL, cioè che è entrato e che viene gestito adesso correttamente. In questi ultimi anni c'è stato un aumento della consapevolezza, perché abbiamo fatto anche un'indagine, voi sapete che cos'è il GAL, detto banalmente, e rispetto a qualche anno fa, quando ero entrato io, nell'anno 2014 come Presidente, c'è una maggiore consapevolezza da parte specialmente delle imprese e delle istituzioni su che cos'è il GAL. Forse il cittadino semplice, ancora quando sente la parola GAL, vede ancora il Gallo come prima cosa, dopo gli viene in mente che c'è anche... Così a cronomi, a ripistano. Esatto, però c'è una maggiore consapevolezza del ruolo del GAL ed è cresciuta anche grazie ad una collaborazione buona che abbiamo avuto insieme a tutti gli enti pubblici e insieme ai nostri soci. Abbiamo accennato già che questo è il periodo, l'anno di chiusura di questo lungo periodo di sette anni, adesso ne comincia un altro, dal 2021 al 2027. Abbiamo detto spesso anche nelle trasmissioni precedenti che gli indirizzi cambieranno, le metodologie cambieranno, ma cambiano anche le disponibilità finanziarie. Cambiano le disponibilità finanziarie, al momento non sappiamo noi quanti soldi avremo perché la cosa si saprà proprio all'ultimo, però a livello europeo c'erano 1.279 miliardi di euro messi a disposizione della prossima programmazione, che quindi toccano anche i GAL perché all'interno delle nuove disposizioni hanno detto chiaro e tondo che ci saranno ancora i GAL perché non è detto che ci siano in tutte le programmazioni, però hanno detto ci saranno anche nella prossima programmazione i GAL, quindi avremo ancora una dotazione e il budget europeo complessivo è comunque buono ed è leggermente più alto rispetto a quello che avevamo nel 2014. E con la ripartizione uguale sempre per gli stati perché si parlava di stati più favoriti, quelli dell'est. Ci sarà qualcosa in meno, credo, proprio su questo fatto qua, nella PAC, nella politica agricola, ci sarà qualcosa in meno che arriverà a noi come Italia perché verranno privilegiati da questo punto di vista i paesi dell'est. Però per quanto riguarda invece il leader, il programma leader che è quel sotto insieme della PAC che va a finanziare i GAL, lì abbiamo ancora la buona possibilità di forse avere qualcosa in più per due motivi e qua entriamo proprio nel lavoro che stiamo portando avanti adesso. Uno, ci sarà ancora il FEASR che è il nostro fondo che alimenta. Due, stiamo lavorando per far sì che i GAL vengano riconosciuti come soggetto che può portare avanti azioni anche su altri fondi europei, quindi non solo quello nostro classico. Ma non è dato per assodata questa possibilità? Ne avevamo già parlato? Io però finché non si mette la parola fine sul documento, gira su tutte le carte questa cosa, però finché non viene firmata, sottoscritta e approvata definitivamente a livello nazionale e anche a livello europeo non si può dire di sì. Comunque avremo la possibilità anche dal mio punto di vista di mettere le mani su un altro fondo da un punto di vista operativo, ma avremo un'altra possibilità che è ancora più importante secondo me e che è quella di riuscire a coordinare, in provincia di Belluno parlo, coordinare in maniera più efficace insieme a tutti i portatori di interesse, siano esse associazioni, siano esse enti pubblici, di coordinare assieme, di creare una strategia unitaria nella quale dopo usare le diverse fonti di finanziamento che noi abbiamo a livello provinciale, che ne abbiamo tante, ne abbiamo veramente tante, questo è un periodo rispetto a 10-15 anni fa dove i soldi ci sono, dove i soldi ci sono, però qual è la difficoltà? La difficoltà è riuscire ad utilizzarli e per utilizzarli bisogna avere le idee chiare prima. Sembra una contraddizione perché il gara, io l'ho sempre visto, è anche così come l'abbiamo promozionato come una cabina di regia di intenti, però quello che manca a questo punto è comunque una cabina di regia efficiente mi pare. Sì, perché noi abbiamo un ruolo, la provincia ne ha un altro, le unioni montane ne hanno un altro, però tutti dobbiamo avere in mente che concorriamo per un unico obiettivo, che è quello lo sviluppo del nostro territorio, ciascuno per il nostro compito. È questo che bisogna cercare di fare, cioè quando ci si siede attorno ad una tavola bisogna cercare di definire le linee comuni di investimento. Noi abbiamo un problema forte in provincia di Belluno che è quello dello spopolamento. Tutte le azioni della programmazione 2021-2027 devono tendere a questo, devono tendere a garantire dei livelli di vita minimi, buoni e a far sì che il territorio della provincia di Belluno e il territorio del Galpra, Alpe e Dolomiti continui ad essere un territorio dove la gente vuole continuare a stare. Diciamo che la parola chiave potrebbe essere mettere in rete? Sì, mettere in rete 2.0, ancora di più. Attraverso sistemi informatici oppure con partecipazione? Attraverso, ci sono tanti, per esempio mi viene in mente anche attraverso azioni di innovazione in ambito sociale, che sono tutte quelle azioni che portano una determinata comunità a migliorare il proprio grado di benessere e non sono azioni che partono direttamente da un Gal o da un ente pubblico o da un'istituzione. Molto spesso queste azioni di innovazione partono dai semplici cittadini che si mettono insieme e c'è qualche bel esempio anche in provincia di Belluno. Io non so se forzo la mano, abbiamo anche poco tempo un esempio, anche per capire di cosa stiamo parlando, se si può fare. Per esempio a Seren, a Seren del Grappa, c'è una comunità che ha preso una valle completamente abbandonata. Sì, che la valle di Seren è molto bella. Che la valle di Seren è molto bella, però che era completamente abbandonata perché era ritenuta priva di opportunità e la sta facendo rinascere. Sì, ci sono poi tanti paesini. Ci sono tanti paesini. Naturalmente vuol dire in questo caso mettere insieme le forze, le strade, gli sboschi, il tagliare le... Sì, sì, sono piccole azioni, però il bello è che queste azioni nascono dalla volontà della gente che ci viene dentro, non sono imposte dall'alto, non sono i cittadini, vieni a segarmi il prato, vieni a fare qualcosa, lo faccio io perché mi piace il posto e quando succede quella cosa lì, poi è molto più facile fare arrivare i soldi, fare arrivare i finanziamenti e creare qualcosa di buono. Quindi l'unione fa la forza. Assolutamente sì. Abbiamo già dito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Alberto Petale, come sempre ringrazio anche perché l'argomento è davvero ostico. Prima parlavamo che è molto difficile spiegare, far capire, sono tutte queste sigle, però speriamo di esserci riusciti anche questa volta. Buon lavoro. Assolutamente torneremo ancora. E ci torneremo sopra ancora. Grazie, buon lavoro a voi e a voi che ci avete seguito, notamente ringraziamento e l'appuntamento è per domani sera. Grazie. 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 Grazie.